Lo sapevate che le cavie quando sono in gruppo si muovono in fila indiana, è una cosa abbastanza tipica perché sono degli animali gregari, l'unico momento in cui invece si sparpagliano è quando vedono un predatore e allora cominciano a correre da tutte le parti. Conoscevi questa curiosità sulle cavie? Dimelo nei commenti!